Mi chiamo Henry James, professione scrittore. Avrete sicuramente letto qualcuno dei miei romanzi, il più famoso credo che sia Ritratto di Signora. Prima che il pubblico mi conoscesse quando ero ancora giovane e scrivevo articoli per i giornali, girovagavo per l'Europa, seguendo ciò che più mi incuriosiva. In uno dei miei viaggi, su consiglio dell'amico Charles Elliot Norton, che qualche anno dopo divenne presidente del prestigioso Archaeological Institute of America, capitai addirittura a Brescia. Charles mi aveva raccomandato di inserirla nella lista di posti da visitare, e aveva proprio ragione. La città è estremamente ricca e possiede una perla di grande valore che era chiusa nel museo di antichità. Una straordinaria statua greca in bronzo e raffigurante una vittoria, che fu dissotterrata in città 40 anni prima. Come mi disse Charles, quella era una delle opere che meglio dà l'idea di cosa possa essere l'arte e cosa essa possa produrre. Gli sono ancora grato per l'ottimo consiglio. Quando ti siedi di fronte alla statua e la guardi, il tuo intelletto nesce purificato, si libra dal corpo e vola di nuovo in Grecia, nell'eroica età dell'arte, respingendo i vili aborti di questo tempo moderno con un lieve ritiro del tallone. È quasi delle stesse dimensioni della venere di Milo, ma più giovane, più snella, più bella e magnificamente alata. Il suo piede sinistro poggia su un elmo e sul ginocchio è posto uno scudo retto dalla mano sinistra sul quale sta scrivendo. Non è una vittoria umana, affannata e gonfia di successo, ma una musa calma e immortale, che conosce i segreti degli idee e il destino degli uomini. Guardatela dal lato che preferite. È ugualmente bella e divinamente dignitosa, anche se con una certa leggerezza che si accompagna alle sue grandi ali.